Il ritratto di Piero della Francesca di Federico da Montefeltro è entrato nella cultura pop, è finito sulle copertine dei libri e nelle pubblicità, ma non è il ritratto che lo rappresenta maggiormente, quello che lo spiega nella sua essenza è questo, un uomo d'arme e un uomo di intelletto, un uomo di potere perché ha ricevuto dal re d'Inghilterra l'ordine della giarrettiera e dal re di Napoli l'ordine dell'ermellino in cui collare è portato sopra appunto la pelliccia dell'animale e sopra un vestito di qualità che ne indica l'altissimo rango. L'alto rango è anche indicato dal libro, oggetto costosissimo e che vuole significare l'amore di Federico per la cultura. E proprio nel punto in cui lui celebrava maggiormente il suo amore per la cultura, secoli dopo, la soldataglia francese ha perpetrato uno tra i peggiori furti verso la nostra arte nazionale. Lo studiolo di Federico da Montefeltro era realizzato su due registri, sotto c'erano le tassie linee, sopra 28 ritratti di uomini illustri del passato e del presente. Si andava più o meno da Platone e Aristotele fino a Dante e il cardinale Bessarione, un greco ortodosso che aveva partecipato al concilio di Firenze che aveva riunito per breve tempo la chiesa cattolica e la chiesa ortodossa. Cosa succede a questi quadri? Dei 28-14 vengono presi e portati in Louvre. Perché questa rappresentazione degli uomini illustri nella parte alta. Prima ragione pratica, dietro le tassie c'era tutta la raccolta di una parte della raccolta dei libri di Federico. La seconda era per dare un'idea simbolica di illuminazione dall'alto della cultura antica presso un potente uomo del Rinascimento. Altra caratteristica molto importante della tassie sono questi giochi di prospettiva che creano delle illusioni. Quello che vedete è stato fatto tutto con pezzi di legno, le ombre ricavate da essenze più scure.